Io mi sento umana quando cammino per strada e noto gesti di umana quotidianità come le persone che sono al ristorante oppure vecchi amici che per strada ridono e si scambiano battute o gli anciani che si appasciano dalla finestra o semplicemente l'uomo che si sveglia presto al mattino va all'edicola per comprare il giornale per poter conoscere le notizie che hanno come protagonista la vita di noi uomini